Sì, forse, quindi mi hai messo special guest per quello, ho capito, metti che c'è qualcosa in più, mettiamo special guest, esatto. Non me lo ricordavo nemmeno, devo essere sincero, devo dire, a discolpa degli artisti che capiterà, che canteranno su basi, è che è molto difficile avere una line-up così folta e poter permettere a tutti di avere la band e fare cambi di palco, quindi c'è proprio un'esigenza anche di palco, di non poter permettere a tutti di avere la band, ecco, quindi è sempre colpa mia, comunque, non è colpa loro. Uno scopo benefico su cui, non soltanto raccogliere fondi, ma anche su cui accendere un riflettore su realtà che magari non si conoscono ancora. Se pensiamo alla fondazione TOG, oltre a tutti i denari che sono stati raccolti l'anno scorso, anche semplicemente sul fatto di far conoscere questo tipo di realtà, credo sia qualcosa di assolutamente importante. Un evento gratuito in una città che non sempre regala cose, quindi credo che per molteplici esperti sia interessante dedicare energie e forze lavoro a un progetto come questo. Anche lui magari a livello personale, già lo puoi capire di più, però a livello della musica, fai tantissimo.